Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 25 maggio. Ho sempre detto che il mese di maggio è un mese magico per il Milan. Quante volte ve l'ho già detto e non mi stanco più. Però c'è un giorno totalmente nefasto, il 25 maggio. Non voglio tornare perché non avevo intenzione di tornare quando ho guardato stamattina. 25 maggio che partita prendo? Non prendo nessuna partita. Non avrei preso certo la partita di Istanbul, anche se il primo tempo è stato il più bello in assoluto delle finali di Coppa dei campioni del Milan, forse. E sarei andato a cercare qualche altra data per cancellare quel 25 maggio 2005. Un disastro. Signori, il Milan nel 52, sono andato fino a lì, oltre il 50 non vado, perde in campo neutro nel 52, perde in campo neutro a Brescia contro il Legnano. Doppietta di sassi del Legnano e gol di Lidl. Disastro. 25 maggio 58, tre giorni prima della finale, giocata splendidamente dal Milan e persa con Real Madrid, il Milan prende 5 perettine, 5 dal Genoa in casa, con lo scatenato Abadì, grande giocatore del Genoa. 25 maggio, sempre il 25 maggio, vado al 97. Vicenza-Milan 2 a 0. Allenava Sacchi, gol di Ambrosetti, autorete di Franco Baresi. E allora, signori, 25 maggio lo lasciamo e parliamo delle cose presenti. Interessante, l'altro ieri, torno solamente questa mattina però, una frase che io ho captato del collega Paolo Condò, collega della Gazzetta e opinionista di Sky, autorevole opinionista di Sky, che dice attenzione, attenzione a Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Secondo le mie indiscrezioni, non voci, siamo ancora nella fase precedente alla parola voce, indiscrezioni, se ci fosse un'offerta importante da parte del Milan, Allegri ci penserebbe. Ma ci sarà un'offerta importante da parte del Milan? Io sinceramente non credo che il Milan si porti fino alla cifra consona per Allegri, parliamo di 6-7 milioni. Allegri forse accetterebbe, anche per una questione, logistica, un ragazzo molto legato alla sua compagna che ha i figli non lontano da Milano, a Brescia. C'è suo figlio piccolino che vorrebbe, non vorrebbe vedere crescere. Io ricordo una frase nel libro di Mazzarri che mi ha molto toccato. Walter Mazzarri nel suo libro dice ho visto mio figlio a 18 anni e mi sono accorto che avesse 18 anni. Per far capire i suoi impegni l'hanno portato in tutte le parti d'Italia e del mondo, dell'Europa, e si è trovato un figlio crescere. Quello che forse non vorrebbe il nostro amico Max Allegri. Ecco perché il Milan, magari con un'offerta magari inferiore alla sua in questo momento, alla sua caratura, potrebbe essere presa in considerazione. Non credo che il Milan però, e secondo me potrebbe essere la sola alternativa a Ragnic di livello, con due filosofie diverse. Ma con Allegri conosce l'ambiente, i tifosi sarebbero meno scioccati, anche se secondo me io continuo a dirlo. La proprietà continua a dirmi che non c'è nulla di scritto, anzi di concreto con Ragnic e tutto è ancora sul tavolo. Però io credo che la direzione, il mio pensiero sia quella. Però attenzione, se il Milan cambiasse direzione, cambiasse l'idea e andasse su Allegri, un'offerta magari non a livello che vorrebbe Allegri. Allegri la potrebbe anche discutere, anche se si rende conto che dopo le splendide imprese con il Milan, ma soprattutto con la Juventus in Italia e in Europa, perché non ha vinto, ma arrivare in finale in Champions League non è una cosa così tanto per ridere, e quindi potrebbe accettare questa affascinante sfida. Vediamo, vediamo, però questa indiscrezione ve la volevo sottolineare.